internazionale. Quindi SOGIN con la divisione del brownfield in due fasi è in attesa di sviluppi internazionali a cui tra l'altro stiamo partecipando fornendo input tecnologici molto importanti. Siamo quindi in attesa dell'identificazione a livello internazionale della miglior tecnologia per lo smantellamento di reattori a base di grafite. Quindi la prima fase prevede soltanto lo smantellamento di tutte le strutture tranne dei blocchi di grafite che vedremo all'interno.